Allora, termina con una goleata questa partita, ormai è un'abituita parte della coccinella. Aurora Coppola, alla vigilia del tuo compleanno non sei riuscita soltanto a bagnare la prestazione con un non-gole, però una splendida prestazione da parte della coccinella. Sì, senz'altro. Noi sempre ci impegniamo, siamo sempre unite e lo vinciamo questo campionato. Manca veramente poco per la matematica, certezza un solo punto, comunque si mantengono le distanze di sicurezza dal progetto più sei. Sì, nonostante tutto noi cerchiamo di migliorare, diamo sempre il meglio e sia dentro che fuori dal campo siamo sempre unite come una squadra. Grazie a tutti.